Ciao a tutti! Stiamo navigando lungo la magnifica costiera amalfitana e scorgiamo due belle spiagge. Come fare per raggiungerle? Hi everybody! We are sailing along the magnificent Amalfi coast and we see two beautiful beaches. How to reach them? In questo video vogliamo parlare in modo particolare della spiaggia alla nostra destra, la spiaggia del Duoglio. In this video we want to talk specifically about the beach on our right, the Duoglio beach. Questa spiaggia è raggiungibile in barca da Amalfi ma anche in autobus. Infatti, se noti bene, sopra questa spiaggia abbiamo la strada che costeggia la costiera amalfitana. You can get to this beach by boat from Amalfi, but also by bus. If you look attentively, you can see above this beach the road that runs along the Amalfi coast. La spiaggia è collegata alla strada grazie ad una lunga scala, ma andiamo a vedere più da vicino. The beach is connected to the road by a long staircase, but let's take a closer look. Partiamo da Positano con il pulmo e scendiamo a Lone, trazione di Amalfi. La scala per raggiungere la spiaggia del Duoglio si trova a pochi passi dalla fermata dell'autobus. We arrive at the Duoglio beach from Positano by bus. The closest bus stop is Lone, a helmet of Amalfi. A few steps from the staircase gate to get to the beach. Come puoi vedere, l'accesso alla scala potrebbe essere limitato. In questo caso, il cartello indica che solo chi ha una prenotazione presso uno dei due stabilimenti balneari può accedere alla scala. As you can see, access to the staircase may be limited. In this case, the sign indicates that only those who have a reservation in one of the two Buffy establishments can access the stairs. Iniziamo la discesa lungo questa ormai famosa scala. I gradini, si dice, che siano più di 400, ma a dire la verità noi abbiamo iniziato a contarli, ma poi siamo stati distratti dal magnifico panorama ed abbiamo perso il conto. We begin the descent along this staircase. the steps are said to be more than 400, but to tell the truth, we started counting them, but then we were distracted by the magnificent view and lost count. Man mano che scendiamo, abbiamo una visuale diversa della spiaggia del conto. sottostante. Assolutamente una discesa piacevole, in quanto il panorama è mozzafiato ed in discesa la fatica è ridotta al minimo. As we go down, we have a different view of the beach below. A pleasant descent, as the view is breathtaking and downhill, the effort is reduced to a minimum. La fatica è sicuramente molto maggiore in salita, per questo, se non volete Se vuoi affrontare la scalata, vuoi optare per il servizio di barche che ti portano al porto di Amalfi. La fatica è molto più grande. Per questo motivo, se non vuoi affrontare la scuola, puoi optare per il servizio che ti portano al porto di Amalfi. Per questo motivo, se non vuoi affrontare la scuola. Il servizio di Amalfi. Puoi optare per il servizio a il pagamento del gruppo batteliere Amalfi, oppure, come nel nostro caso, al servizio di navetta incluso nel noleggio dei lettini ed ombrellone dello stabilimento balneare in lido degli artisti. Puoi optare per il servizio di Amalfi Batteliere Group o, come nel nostro caso, il servizio di amalfi batteliere o, come nel nostro caso, il servizio di amalfi batteliere e ombrellone e del lido degli artisti, Buffing Establishment. Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. 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 Siamo ormai arrivati alla spiaggia, pronti per una bellissima giornata alla spiaggia del Duoglio. L'avventura continua nel prossimo video. Ciao, alla prossima! Siamo arrivati alla spiaggia, pronti per un bellissimo giorno alla spiaggia del Duoglio. L'avventura continua nel prossimo video. Bye, see you soon! Ciao! Ciao!